ciao ragazzi bentornati su cremax car fishing oggi sono da solo ma non per questo non ci divertiremo allora sono in quel di bagaggiolo ok sono venuto per fare qualche ora che mi sono ritagliato per provare nuove cose e niente andiamo ad affrontare la sessione con due canne oggi l'acqua è veramente limpida è veramente quasi un piacere stare qui ad osservare se passa sotto qualche pesce perché magari dopo andiamo a vedere insieme ma è veramente cristallina l'acqua e niente adesso il tempo di prepararmi e dopo di che ho una lunga scaletta e quindi ci sarà tanto da parlare e speriamo anche di vedere qualche pesce vi lascio a qualche immagine e ci vediamo fra poco ciao 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 ok ragazzi ho preparato tutto avete visto cosa ho fatto ma dopo andremo a vederlo nel dettaglio vado a tirare le canne ok allora tanto regolo un attimo così almeno riesco a vedermi prima canna tirata tutta sulla sponda opposta perché comunque dovrebbe esserci l'acqua un pochettino più bassa quindi spero che si sia riscaldata prima quella sponda mentre questa qua l'andrò a tirare dritto davanti a me non sto pescando chissà quali distanze 40 metri massimo però sono fiducioso perché l'acqua così cristallina qua non ho ancora potuto vederla perché non siamo mai venuti nei periodi quelli di gennaio febbraio quindi sono veramente fiducioso adesso tiro questa e poi facciamo altre due chiacchiere su come approccio la sessione adesso e come voglio approcciarla se vedo che non succede niente allora intanto che aspetto qualche segnale da parte delle carpe vi spiego come sto affrontando questa sessione questo perché voglio rispondere a un po di domande oggi anche che mi avete fatto ci avete fatto sui social in particolare su instagram appunto tanti di voi mi chiedono ci chiedono dico mi perché sono da solo mi manca il mio braccio destro e ci chiedono come si può affrontare uno spot di pesca e ultimamente tanti ci state chiedendo come come affrontare qualche cava che c'è nel nelle vostre zone nel periodo invernale allora nel periodo invernale sappiamo tutti che potrebbe essere controproducente effettuare grosse pasturazioni in fase di pescata ok quindi non sto parlando di pasturazione preventiva come affrontiamo noi o meglio oggi come affronto io questa sessione è molto semplice come avete visto preparato delle bombette non sono riuscito a prepararle la sera prima che avrei potuto farlo questo per rispondere a un'altra domanda si si possono preparare la sera prima anche due sere prime le bombette non ci sono grossi problemi molti magari potranno obiettare sul fatto di usare sfarinati o cose che possono andare a rovinare l'amo se rimane dentro però se si preparano due giorni un giorno prima la sera prima non dovrebbe succedere niente detto questo come affronto la sessione? semplice bombetta in pva dentro ho sbriciolato qualche boiless appunto che avete visto col cruscia nel sacchettino in pva un po' di pellet ovviamente al pesce perché non c'è grossa presenza in inverno di pesce di disturbo sto usando come rig due spinner rig due spinner rig perché sapete sono un amante delle presentazioni pop up e non c'è un periodo ideale secondo me per usare uno spinner piuttosto che un affondante io quest'anno concentrerò molto le mie sessioni sull'utilizzo di pop up poi ovviamente bisogna anche adattarsi un attimo a quello che è il posto se andiamo sul lago dove le pop up non vengono apprezzate cambio di tattica non c'è nessun problema quindi spinner rig spinner rig che ho montato innescando due boiless pop up che avevo dentro l'infusa con i go praticamente da mesi e mesi questo che cosa fa succedere però? che il go andandosi a impregnare tanto nella pallina non la rende più pop up al 100% quindi ultimamente sto iniziando a correggere quelle piccole cose che però mi permettono di pescare nel modo migliore come avete visto nel video precedente alle giarrette utilizzo un sughero trapano tramite appunto il trapanino la boiless ci metto dentro un pezzettino di sughero e la rendo nuovamente pop up al 100% però è impregnata di go e quindi lavora diversamente se appunto non fosse impregnata di go quindi sprigiona tutta la sua potenza quindi la sessione oggi è una sessione molto semplice ho scobrato qualche pallina giusto per andare vicino all'innesco e fare un piccolo tappetino ma nulla di speciale e quindi come affronto una sessione invernale? così ragazzi non esagerando con la pasturazione quindi una ventina di palline sparse intorno all'innesco un sacchettino, una bombetta in PWA e un rig che potrebbe essere io in questo caso pop up ma voi potete mettere dentro un rig affondante l'unica cosa, l'accorgimento è non fare lo spezzone del rig troppo lungo perché deve starci nella bombetta quindi si parla di un 10-12 cm massimo e niente sono fiducioso ripeto perché c'è veramente un'acqua stupenda se riesco dopo ma purtroppo oggi il tempo è coperto come vedete non c'è sole ma c'è nuvole e nebbia quindi non so se poi si riesca a vedere bene l'acqua cristallina che c'è però veramente riesco a vedere tutto il fondale qua davanti a me questo mi potrà anche facilitare quando devo andare a inguadinare un'ipotetica carpa e appunto non uso neanche i tendifilo oggi perché vedo benissimo dove può andare la carpa e se va sopra o sotto l'altro filo niente la sessione prosegue io mi siedo un attimo faccio qualche piccolo accorgimento per come ho detto prima un eventuale cambio di programma ovvero vado a prepararmi un piccolo stick mix invece che usare il pellet dopo e provo a vedere se può fare la differenza però sono fiducioso che così come sono sono in pesca al 100% devo solo aspettare che le nostre amiche rispondino e basta niente andiamo avanti dai dai che ce la facciamo perfetto si è riposato qualche minuto adesso vado a inserire il tutto e prepariamo non chissà quanto grandi ragazzi è perché comunque ripeto il periodo non prevede massicce pasturazioni sia a livello sull'innesco sia a livello di pasturazione vera e propria quindi vado a fare uno stick di qualche centimetro ma non voglio esagerare anche perché come diceva il caro buon vecchio oscar brugger se lo faccio troppo lungo e la carpa mi va a mangiare da destra a sinistra se poi la boiless è qui e c'è tanto così di stick può essere che si perda via succede qualcosa sott'acqua non arriva la boiless quindi avendo un qualcosa di più piccolino riusciamo a perlomeno ci proviamo a ingannarle nello stretto e non nel lungo ok così non vanno a disperdersi troppo di attenzione o cos'altro adesso vado a chiudere io avrei anche una sedia per sedermi ma non ho voglia ragazzi quindi sto in piedi ok perfetto là ed eccolo qua ragazzi eccolo qua ovviamente serve un ago da stick perché se voglio fare le cose fatte bene farò passare il mio terminale poi dentro lo stickettino tiro fuori tutto e la boiless rimane qua vicina e qua esce il cappello del terminale adesso me ne preparo finché non lo finisco e basta fra poco cambio tattica e vedo se succede qualcosa ciao ok ragazzi allora come dicevo prima ho tirato su la canna di destra e vado a mettergli lo stick vado semplicemente a far scendere la mia piccola pallina che utilizzo per fermare il rig sulla quick change swivel dopodiché vado con l'ago da stick mix a prendere prendiamo questo che è più grosso via dai e vado a chiudere il cancello ops è uscito ok perfetto allora quasi quasi però io la pallina la faccio uscire e la rimetto dopo così c'è le cose fatte bene tac ok vedete sto praticamente facendo uscire il mio rig adesso poi lo vado a ancorare sul mio stick ok una volta che poi si scioglie il rig è libero e è libero anche l'amo adesso vado adesso vado a rimettere la mia perlina in modo che poi vado a bloccare tutto sulla quick change swivel tac oppala è arrivato un messaggio intanto oh là perfetto ragazzi ok così si presenterà l'innesco e anche antigroviglio adesso non mi resta altro che è arrivato un altro messaggio scusate non mi resta altro che rimettere lo stesso oh che bello ok sporco un po' ma chi se ne frega perfetto ok adesso questo è pronto e io vado a tirarlo speriamo bene pronti per il tiro ragazzi procedo bene carne in pesca con lo stichettino vediamo se il cambio tattica paga ciao Allora ragazzi, ancora niente, ancora niente e vabbè me lo aspettavo d'altra parte, tanto freddo, quindi l'acqua sarà veramente ghiacciata e non so quanto le nostre amiche vogliano mangiare, comunque niente ci provo fino all'ultimo e basta, speravo sinceramente in una partenza nella mattinata ma niente qualche bip sulla canna di destra poi sulla canna di sinistra ma poteva essere anche magari qualche tinca che andava lì a sbeccottare sul pellet, peccato perché non so avevo la convinzione che oggi un pesce sarebbe venuto fuori, non importa, adesso vediamo di finire la sessione e magari proprio all'ultimo come sempre succede, stai per mettere via le canne, ne tiri via una e fatalità sull'altra parte, quindi a volte bisogna anche indovinare quale canna tirare via prima e niente, peccato, peccato però vabbè il periodo lo sappiamo, non è generoso, non importa, non importa, andiamo avanti dai, provo a ritirare su una canna e rivedere un attimo quella che ha suonato, rivedere un attimo se l'inesco è tutto ok per non essere fuori pesca magari nel momento giusto, bene a dopo. Allora ragazzi purtroppo la sessione è finita con zero catture però anche se speravo in una partenza almeno sono al corrente che è il periodo insomma invernale non è facile sicuramente poi non stare qua tutto il giorno ma avere solamente quelle quattro ore a disposizione non non rende più facile la cosa, non importa, spero che comunque il video sia piaciuto e con l'occasione appunto ho risposto a un po' di persone che appunto mi avevano fatto alcune domande. Sono contento sicuramente di una cosa che sono stato al caldo, sono stato tutto il tempo seduto fuori sulla sedia e non ho patito il freddo quindi per me questo è già qualcosa da menzionare perché gli anni scorsi ripeto non essendo attrezzato bene anche con il giaccone quello grosso a volte veramente il freddo si faceva sentire. Sono felice che finalmente ho trovato il mio assetto per quanto riguarda il vestiario. Detto ciò finisco di smontare l'ultima canna una l'ho già messa via come al solito faccio una alla volta perché spero sempre in una cattura nel finale e basta ci riproverò sicuramente perché non bisogna mai arrendersi. Tanti di voi mi chiedono continuamente se conviene cambiare posto piuttosto che approccio diverso nel car fishing nella pesca è così bisogna avere pazienza bisogna non non demordere costanti i risultati prima o poi arrivano lo sapete e basta oggi è andata male un altro cappotto che si aggiunge alla collezione dei tanti che ormai in questi anni ci siamo portati a casa però l'importante era stare fuori anche all'area fresca lontano da quella che è la routine quotidiana quindi solito lavoro casa e basta così sono contento lo stesso ci vediamo nel prossimo video non so ancora dove anche se comunque come come detto in passato batteremo forte il fiume quest'anno niente non mi resta che salutarvi ragazzi e augurarvi una buona giornata o una buona serata ciao